famiglia. Va benissimo Mary. Allora andiamo? Andiamo a presentare. Lo presentiamo questo ospite. Questo questo grande diciamo. Sì. Allora facciamo così ti lascio l'onore a te. L'onore di presentare? L'onore il microfono è qua lo prendi tu Mary? Brava Mary. Allora lo presentiamo io e te o solo io Mary? Allora presentiamo un grande regista, attore. Sta lavorando tantissimo con cortometraggi, film. Però lo facciamo parlare a lui. Signore e signori. Antonio Alfano. Vieni Antonio. Buonasera. 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 Saluto a Mary. Grande. Grande. Grande rispetto ragazzi. Ciao Antonio. Ringrazio dei complimenti. Sì è vero stiamo facendo tanto. L'ultimo lavoro stiamo lavorando con Max. Stiamo cominciando un film mio, La Vendetta. E qua stanno tutti i miei attori, quelli che stanno partecipando. Bravo. Abbiamo altri progetti, 5-6 progetti dopo di questo. Siamo pieni di lavoro fino alla... Bravissimo. E poi un grande evento con Mary Fabricino, un altro mio film da regista. L'amore molto bello che abbiamo fatto insieme che c'è. L'attore qui presente, Mario Lardo. C'era pure io. Ci siamo divertiti da morire. Una cosa divertente. Ci siamo divertiti da morire. Però fatta bene con me. Sicuramente. Che lo facciamo vedere il giorno 3 aprile a Pollena. A Pollena. Già la settimana scorsa. L'ho detto e lo dirò anche la prossima settimana. Il 3 aprile. Ma poi non ci dimentichiamo di Sodoma e la scissione di Napoli. Certo. Che io faccio il protagonista. Ma fammi fare una bella parte, diciamo così. Sì, te la faccio fare hard. Con Max Bellocchio. Da killer la voglio fare. Con Max ce la faccio. Eh dai. Voglio fare la parte da killer. Andrò, dai. Non puoi fare una bella. Va bene. Se vuoi venire ti faccio fare una grande parte. Da killer voglio fare un killer. Però mi devi accriscire la barba e i baffi, se non te la posso fare. Ai 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 ai. C'è una faccia da criminale, c'è una troppa angelica, non va bene. No, puoi pensi, tu li incontrare ancora. Non è vero, non è vero. Adesso non è più così. Non è più così. Tutto lì. Faccia brutale, diretta, bum bum. Allora vero, bum bum. Un po' cosa fa? Allora ci fa la persona. Non va bum bum. C'è una persona brava, Mary. Canta solo, che è meglio. O qui la nonna ci fa, Mary. No, no. Allora. Allora, vogliamo far salire anche gli attori. Sì, adesso vi voglio presentare Carlo Tiziano. Vieni. Non è alto che il segretario è anche, fa parte di tutti i due film, L'agguato patriarca e La vendetta. Buonasera. Peppe Montella. Ciao. Ciao. E' uno dei protagonisti del film La vendetta, ha fatto anche L'agguato. Vieni. Ciao. Gabriele. Ciao. Ciao. E' un affiliato del clan, non solo, che è un co-protagonista del primo film. Ciao. Poi abbiamo... Ciao. Ecco, Cristoforo. Andò, ma tutti uomini, Madone, non ce ne sono? Sì, adesso arrivano. Eh dai. Lui è anche un affiliato del clan. Poi adesso Marilena. Marilena fa... Eccoci qua. Eccoci qua. La vice-spettrice. Veramente. Nel film dell'agguato. E invece qua fa la killer. Bellissimo. Mamma mia. Poi abbiamo un altro poliziotto. Ciao, complimenti. Un altro poliziotto. Come si chiama l'amico? Ecco, Giovanni. Giovanni, vieni. Giovanni, vieni Giovanni. Poi abbiamo ancora Ciro. Ciao Giovanni. E' anche una bellissima donna che sta avverendo tra poco. Vieni là. Anche lui è affiliato, sì, ai due clan dei due film. Poi abbiamo la signora Anna. Anna, dove è Anna? Grandissima protagonista del film di Matteo. Vieni Anna, vieni Anna. Vieni Anna. Vatti vedere. Fatti vedere. Anna, fatti salutare. La vendetta. Ciao. Poi abbiamo ancora un altro attore adesso nuovo che è entrato a far parte del casting e lui fa l'affiliato. Eh, ecco. Allarghiamoci, ragazzi. Vai. Allargatevi. Allargatevi. Allora, vieni qua. Vieni qua. Bravo. Ho presentato tutto il casting. Hai presentato tutto il casting? No, tutto. Quasi. Quasi tutti. Siamo duecentotrenta persone. Andò, scusa, ma chi è il killer che ha Mitz? Il killer, ecco, eccola qua. Mamma mia. Stai attento. Ah, proposito. Poi ti dico, scusa, c'è mia figlia che è quella mia figlia. Eh, dove sta a proposito? Dove sta mia figlia? Simona? Eccola qua. Vieni Simona. Non voleva venire, aveva vergogna, però l'ho costretta io a venire. Eccola qua. Vieni a Babbo. Allora. Vieni Simona. Ecco, lei, lei è una grande, una grande montatrice di film. Sì. Veramente è brava. Ha montato anche il mio. Con tanti anni che sta lavorando, anche se è piccolissima, però è brava. Eh, ma tu le fai diventare grandi subito, non ci sono, eh? Sì, sì. Perché ti ho visto, ti ho visto. Sì, sì, sì. Allora, Lian, vogliamo far vedere questo lavoro di Antonio Alfano? Sì. Vi ringrazio. Come si intitola? La vendetta. Mamma mia, la vendetta. Tutto vendetto. È incominciato tra poco. Tutto vendetto. Pochi giorni. Pochi giorni. Vediamo un pochettino, dai, vediamo un pochettino. Siete alla regia, ci faccio, ci fanno vedere, dai. Se parto. Eccolo. Vediamo un pochettino. c'era 100.000 euro, però, ci portiamo a termine stramissimo. non c'è. Pochi, ma chi vuole chied da tanti affiancato, da me, dove sei? fatta faccia rosa chi lo so che il braccio destro è più storto e chi sta a testa di noi signori allontanatevi un po' facciamo scena e non so la sanità ma non so più in america questa è la cuba è molto nata ma non stiamo a toccare ti spero un po' la situazione a posto i clienti assolutamente e non sulle veste c'era ma questa cosa ce la sapevamo che stiamo all'acqua quando lo facciamo a parlare con lui e ora è la cossier a zbu direi sono un po' la ciancia e potremmo stare se ti vuoi dire con me e mi sono più qui a lavorare da qui è una cosa 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 andato i miei avevo le stesse sofferenze ragazzi tu dici un altro malone sei stato tu che sei questo l'acchi della meccan rispondono non faccio ah 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 non ah 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 No, no, no. No, no, no. Comunque stiamo facendo un grandissimo lavoro, una grande preparazione artistica di recitazione, grande lavoro veramente, mi ci metto vicino, si può dire giorno e notte vicino a loro. Meritano, sono bravi, stanno a sentire, mancano ancora molte parti che non abbiamo avuto, perché Meri mi aveva detto due minuti e mezzo, insomma siamo arrivati a tre minuti, non ho potuto mettere le scene che volevo mettere, perché abbiamo la scena sua che non è uscita, ma è una bella scena. La prossima volta con gli attori diversi. Sì, adesso con loro e poi con gli altri attori, perché siamo tanti, siamo duecento persone. Brava, brava, bravissima. Noi vi ringraziamo, veramente siete sempre meravigliosi. Sempre in bocca al lupo, sempre più. Voi sapete che vi amo te. Lo so, anche noi a te. Sta nel mio cuore, Mario. Grazie, Antonio. Mario, anche tu. Ti aspetto sul mio set per una bella parte. Antonio, però tu sai che... Però ci stai già a killer, non lo posso fare. No, vabbè, ti faccio fare il killerino, quello piccolo. Sei un grande, Mario. No, allora, ragazzi, in bocca al lupo, veramente siete bravi. Vi auguro tutto il successo di questo mondo, sempre più in alto, perché ve lo meritate. Un saluto a tutti quanti voi. Anche a Ciao TV, a tutto lo staff. Va benissimo. Ciao ragazzi, alla prossima. Alla prossima, un grande amico mio. Ciao. Alla prossima. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. Ciao. Meri, io saluto le donne. Bello, bello, bello. Complimenti ad Antonio, complimenti ad Antonio, veramente bravo. Sì, sì. Veramente bravi, 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 bravi. Sono bravissimi. Non ci sono parole...